A Sansepolcro sabato scorso il sindaco Franco Polcri ha ritirato le deleghe a due assessori, considerando che si sono verificati i disaccordi all'interno della Giunta dovuti ai ripetuti contrasti tra gli assessori Gorizzi e Frullani, che tali comportamenti non hanno garantito la realizzazione del programma politico-amministrativo e hanno pregiudicato l'azione dell'organo esecutivo dell'ente. Gli svariati tentativi di limitare i contrasti e dare loro una soluzione all'interno della Giunta non hanno avuto effetti positivi. Questo è quanto si legge nella determina con cui Polcri ha ritirato le deleghe al bilancio finanze e personale assegnate nel giugno 2008 a Gianni Gorizzi dopo la scomparsa prematura del compianto assessore Umberto Giovagnini e la delega ai lavori pubblici, manutenzione e protezione civile assegnate a Marco Frullani nel 2006 a inizio del mandato amministrativo. Si profila quindi un nuovo rimpasto di Giunta, circa un anno dallo scadere del mandato amministrativo. Che contrasti interni alla Giunta abbiano frenato in parte l'attività amministrativa sin dall'inizio non è una novità ma è un dato di fatto che sono andati acutizzandosi venendo meno il tre d'union rappresentato dall'assessore Giovagnini tra il centrodestra e la lista civica. Ora la prossima riunione della maggioranza si svolgerà il 2 agosto al momento del ritorno in città del sindaco dal luogo di villeggiatura in cui si trova dallo scorso sabato. Le deleghe di Gorizzi verranno trattenute dallo stesso sindaco Polcri, quelle di Frullani verranno consegnate nelle mani del collega assessore all'urbanistica Fabrizio Innocenti con cui Frullani ha operato in stretta sinergia fin dall'inizio del mandato. Sulla vicenda politico-amministrativa di Sansepolcro non si escludono ulteriori sviluppi ma è poco realistico pensare che l'amministrazione si concluderà anticipatamente dal momento che è in corso l'iter che porterà all'approvazione definitiva del piano strutturale da parte del Consiglio Comunale.